Questa polemica che ha investito di nuovo il Presidente Tavecchio, le dichiarazioni, insomma... Ma fu il caccio la domanda? No, non siamo noi, io faccio il cinema, quindi parla a qua, ha detto stampa del caccio. Ma il Presidente, se ci diceva... Ma vedi, fai dire una cosa a loro! Ce l'ha detto stampa che ha detto... Vieni, posso, fatti dire con lei che l'ha detto stampa? Ci dia un po' che vuoi sapere? Voglio sapere, una polemica, secondo lei il Presidente Tavecchio è ancora, diciamo così, può ancora restare al suo ruolo dopo anche questa ennesima polemica, le frasi sugli ebrei, le frasi sugli omosessuali, insomma, c'è stata parecchia polemica, secondo lei può restare al suo ruolo? Ma io di tutta sta cosa non ne so niente, che cosa è successo? Allora, il Presidente Tavecchio è stato intercettato da un intercettato, insomma, durante un'intervista con un giornalista, ha registrato una conversazione con il Presidente Tavecchio, in cui il Presidente Tavecchio ha paradefinito ebreaccio, un dirigente, un ex costruttore che ha venduto la sede della Lega Nazionale di Repettanti alla Federcalcio, e ha detto sugli omosessuali non ho nulla contro di loro ma devono stare lontani da me perché sono normali. E' intervenuto anche il Presidente Tavecchio, ha detto che sono frasi condannabili, insomma, c'è stata parecchia polemica e da più parti è arrivata la richiesta al Presidente Tavecchio di fare un passo indietro. Il Presidente Tavecchio ha detto io non posso commissariare la FIGC ma ognuno deve anche rispondere alla propria coscienza rispetto alle affermazioni che fa, insomma. E da me che cosa vuole? Lei è un Presidente di una società importante, dopo queste affermazioni secondo lei il Presidente Tavecchio ha ancora i titoli per rimanere alla guida della Federcalcio perché comunque è un'istituzione sportiva che... Allora io non so quello che ha detto, non lo so quello che ha detto il Presidente Tavecchio e non l'ho sentito perché ero all'estero. Ma posso dire che una rondine non fa primavera, per cui non possiamo fare e cancellare magari un grande lavoro che ha fatto finora per una frase. Non sapendo niente non la posso commentare. Però non sarebbe la prima volta che, insomma, dopo tipo Bado, dopo le donne... Vabbè, ma quella, scusate, quella era una roba di due anni fa, allora a me per esempio mi hanno condannato per dire a un signore invece di indonesiano filippino che era lì vicino, però a questi siete voi giornalisti che volete, come si dice, enfatizzare, ciao giornali, evviva da vecchio! Grazie.